Con la prima fase della stagione ormai agli archivi, il Girone Bicchiettino di terza categoria ha in programma alcuni recuperi di gare che non si sono disputate precedentemente causa neve, tra queste quella che si disputa Torricella-Pelinia e che mette di fronte i padroni di casa del Torricella 2.2 ai Biancorossi di Fossa Cesia, due squadre attestate in piena zona playoff con gli stessi punti in classifica. La sfida è di fondamentale importanza per il prosiego della stagione e per la formula del campionato che prevede una seconda fase in cui si formano due gironi in cui saranno ricomprese anche le altre formazioni dei Girone Bicchiettini di terza categoria, ma solo in uno di questi si sfideranno le squadre che potranno ambire al salto di categoria. Ed è dunque di fondamentale importanza la conquista dell'intera posta in palio da parte delle due sfidanti odierne. Anche se la presenza della neve è ancora visibile ai margini del rettangolo di gioco, il terreno è perfettamente agibile e può iniziare sotto la direzione dell'esperto fischietto teatino Claudio Fedele. Primo episodio di cronaca dopo un giro di lancette con le proteste dei locali sul contatto in area tra Cerrone e Di Paolo che il direttore di gara non ritiene in alcun modo sanzionabile. I padroni di casa rimangono dalle parti di Paolucci che all'ottavo rischia grosso sullo spiovente di Capitani Luzio per Di Gironimo pronto alla battuta che spedisce la sfera a scheggiare la trasversale, ma la posizione del numero 11, rosso-blu, è irregolare. I bianco-rossi si fanno vedere al quindicesimo con la bordata di Agabitini da distanza siderale che non crea particolari patemi all'attento di Natale. Sull'altro fronte i ragazzi di Mister Zinni si propongono subito dopo con il temibile diagonale ravvicinato di Di Paolo che la retroguardia ospite riesce in qualche modo a dirottare sopra la trasversale di Paolucci. Quest'ultimo è chiamato in causa poco oltre la mezz'ora dallo scatenato Di Paolo che in questo frangente ci prova su palle inattiva dal vertice d'area. La truppa di Zangolli tira un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo e nelle battute declinanti del primo atto si fa decisamente più propositiva rispetto ai padroni di casa. E al 34esimo riescono a rompere gli equilibri grazie a Torlino lesto ad intervenire da posizione propizia raccogliendo la sponda aerea di Del Peschio al culmine di una buona manovra che prende spunto dalla fascia destra. I pelini accusano il colpo e riscano grosso in altre occasioni successive che precedono il rientro negli spogliatoi. Al 38esimo è Del Peschio a tentare la sortita in prima persona e anche se la conclusione parte da posizione estremamente periferica Di Natale deve impegnarsi per allontanare la minaccia. Agabitini tiene in allerta l'estremo rosso-blu chiamato in causa per ben due volte a stretto giro dalle bordate dalla distanza del numero 20 Fossa Cesiano. L'ultimo acuto del primo atto aspetta ancora la truppa bianco-rossa con Del Peschio che cerca lo spazio per la battuta e dopo essersi liberato della difesa rosso-blu calcio in porta ma la conclusione non è quella dei giorni migliori e per Di Natale non ci sono difficoltà a limitare i danni. I bianco-rossi si rivedono al riavvio della seconda frazione con la giocata del solito Del Peschio che imbecca l'appostato Costantini ma quest'ultimo calcio adevolmente e consente a Di Natale di rifugiarsi al lato. Sarà in sostanza l'ultimo pericolo corso dall'estremo locale contrariamente al suo omologo Paolucci che dovrà rimanere sempre vigile sino al termine della sfida. Il portiere Fossa Cesiano non rischia in ogni caso sul piazzato dal vertice d'area di Daniello che poi si ripete con una zampata in area di prima intenzione ma anche stavolta la mira non è ottimale. Nelle battute conclusive ci prova anche il neo entrato Tracchia ma il tentativo è piuttosto innocuo e la presa di Paolucci è di ordinaria amministrazione. Non vi saranno altri pericoli per la porta bianco-rossa e al triplice fischio sono i ragazzi di mister Zangolli a festeggiare per la conquista della fase successiva che vedrà i bianco-rossi inseriti nel raggruppamento che punta a conquistare il salto di categorie. Fine gara con il dirigente Piero Ottobrini del Torricella 2.2 oggi era una gara molto importante era un recupero da vincere perché con un'eventuale vittoria la squadra avrebbe potuto partecipare alla seconda fase in una posizione privilegiata adesso invece com'è la situazione dopo questa sconfitta? Dopo questa sconfitta siamo un po' amareggiati perché effettivamente la nostra squadra pensiamo che avrebbe meritato il passaggio del turno però continueremo con lo stesso impegno con la stessa voglia anche perché quando vediamo gli spalti così gremiti come oggi siamo soddisfatti e quindi cerchiamo di andare avanti con serenità con un massimo spirito di sportività. Qualche rammarico per il secondo tempo soprattutto nel quale avete giocato diciamo in un'area sola quella del Fossa Cesia però è mancato lo spunto finale? Eh questo effettivamente è stato il nostro difetto di tutto il girone di questo girone che si è disputato finora abbiamo avuto sempre difficoltà a realizzare e questo ci ha penalizzato però onore ai vincitori che evidentemente sono stati più bravi. Volevo parlare infine di questa vostra società che è rinata dalle ceneri di precedenti società del passato? Sì è una società nuova questo è il secondo anno che disputiamo il campionato siamo abbastanza soddisfatti perché essendo il nostro paese un piccolo comune ci siamo organizzati coinvolgendo anche i ragazzi dei comuni limitrofi infatti nella nostra squadra disputano giocatori di Pizzoferrato, di Montenero, di Civita Luparella. Cerchiamo di rappresentare al meglio un territorio che è quello montano che come si vede pure dalla presenza della neve ci ostacola molto nell'organizzare però siamo contenti e abbiamo tanta voglia di continuare. Antonio Zangolli è il tecnico dei Biancorossi Fossa Cesia una realtà nata così come il Torricella 2.2 da pochissimo tempo e si pone l'obiettivo di crescere a livello delle due squadre maggiori di Fossa Cesia l'Union che è militare in eccellenza e poi c'è il Fossa Cesia 90. Voi adesso siete la sorella più piccola ma vi state già togliendo qualche bella soddisfazione. Sì innanzitutto buonasera a tutti. Praticamente siamo nati due anni fa da un gruppo che prima era gli allenatori che facevano il settore giovanile con l'attuale Union, prima SD Fossa Cesia. Stiamo cercando di far tornare a giocare tutti i ragazzi che negli anni precedenti hanno fatto il settore giovanile con noi. Tra l'altro tantissimi ragazzi sono con l'altra squadra che è il Fossa Cesia 90, qualcuno anche con l'Union quindi è un lavoro che è da tanti anni che l'abbiamo fatto nel settore giovanile. Adesso abbiamo provato così a fare questa nuova realtà con anche un settore giovanile, una scuola calcio. Abbiamo iniziato dai più piccoli fino adesso fino agli esordienti, poi negli anni futuri insomma cercare di ampliarci anche perché Fossa Cesia comunque è un bacino abbastanza ampio anche se è una cittadina di 6.000 abitanti però ci sono anche dei paesi limitrofi e quindi riusciamo comunque a fare abbastanza bene diciamo. Ecco voi avete gioito fortemente alla fine perché lo ricordiamo questa era una gara di recupero ma di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione. Sì praticamente il campionato ha una formula un po' particolare visto che le squadre sono dislocate tra Vasto e Chieti quindi la federazione ha fatto questo progetto a inizio anno di fare tre gironi dove le prime quattro si qualificano e fanno un playoff dove adesso saremo due gironi da sei squadre e la prima insomma andrà in seconda categoria e poi ci sarà un altro posto per spareggiare. Mentre le altre dal quinto all'ottavo posto praticamente fanno un girone con una Coppa Abruzzo e niente. Noi comunque sì l'obiettivo all'inizio anno era comunque di fare bene poi c'è stata possibilità veramente nel mercato di dicembre sono arrivati 3-4 ragazzi ragazzi con qualche annetto che hanno calcato palcoscenici importanti che hanno sposato il nostro progetto e quindi sicuramente siamo saliti di livello infatti nelle ultime gare abbiamo fatto bene. Volevo fare complimenti a Torricella perché probabilmente meritavano anche loro sicuramente anzi per il campionato che hanno fatto di passare il turno. Ce la siamo giocata all'ultima partita, all'ultimo incontro e ci è andata bene a noi quindi per questo però sono stati corretti e devo fare veramente i complimenti. Ripeto non il nostro progetto è che noi abbiamo tantissimi ragazzi del 98, 99, 2000, 2002 e oltre i 4-5 un po' più grandicelli e quindi il futuro comunque ne abbiamo diversi ragazzi che vogliono venire a giocare e poi anche con l'impianto nuovo che stiamo usufruendo per gli allenamenti. A breve dovremo anche giocare a Fossa Cesea e finalmente dopo tantissimi anni riusciremo a giocare in un impianto di livello veramente superiore. Per concludere, mister, un tuo giudizio personale su questa formula che ha avuto diverse critiche da parte di molti addetti ai lavori? No, io devo dire che sono favorevole a questa formula innanzitutto perché comunque c'è stata comunicata a inizio stagione quindi alla fine noi sapevamo quello che si poteva fare. La problematica è questa che giustamente le squadre di Vasto hanno anche ragione perché andare a giocare nella parte di Chieti così come il contrario veramente l'anno scorso noi ad esempio abbiamo fatto il girone di Vasto e ci siamo sobbarcati veramente delle trasferte almeno di un'ora tutte le domeniche. Purtroppo però altra situazione secondo me non era possibile perché altrimenti sarebbero dovuti fare due gironi e quindi comunque ci saremmo mischiati le squadre e non so, la federazione ha scelto così e adesso sarà sicuramente un campionato avvincente. Voglio dire tra l'altro che è vero che siamo in terza categoria però veramente ho visto un ottimo livello di tutte le squadre, anche delle squadre, il Treglio, la Civitellese che stavano giù in classifica però ogni squadra ha 3-4 elementi buoni, si cerca di giocare. Oggi non è stata una grandissima partita perché la posta in palio era alta, noi avevamo pure qualche assenza però insomma il campionato è di buon livello quindi anzi noi veramente non ci aspettavamo questo livello, veramente faccio i complimenti da tutte le squadre e sono organizzate e quindi è una bella cosa. Poi noi ripeto sempre cerchiamo anche il divertimento insomma anche negli allenamenti e questa deve essere la cosa principale insomma.